Adesso andiamo d'Ambrosia, la mia cugina prediletta Che scova sempre, guardate qua, fai vedere lo sacco di gocce Guardate là, guardate Quale notizia hai scovato? Buonasera, due ristoratori nel New Jersey, Stati Uniti Hanno vietato l'ingresso nel loro locale ai bambini sotto i 10 anni Ti ha facchia là Ai bambini sotto i 10 anni, perché fanno troppo rumore e rompono tutto Non sono mancate le critiche, ma sono anche aumentati i ristoranti child free Io voglio dire una cosa, non la togliere ai bambini, core mamma Però invece di vietare l'ingresso ai bambini Ma perché non li vietiamo alle mamme, non alle donne Alle mamme, immaginate i ristoranti, chi ne è papà? Come sono belli i papà, chi ne è sordo Bene, 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 bene Applausi Bravo Ambrosia, bravo Ambrosia Grazie Grazie Grazie